Sono assolutamente convinto che nella vita e ancora più in politica uno non valga uno e che per fare una cosa fatta bene richieda una preparazione a monte. Non esiste un libro per fare bene il consigliere comunale, il consigliere regionale o il parlamentare o ancora di più il ministro. Io personalmente mi sono formato in trincea con tanti anni di consiglio comunale all'opposizione ma credo che la strada migliore possa essere quella di frequentare una scuola come quella che partirà il 25 marzo, una scuola di formazione politica in grado di rendervi pronti e preparati a svolgere con impegno e resa un ruolo nella pubblica amministrazione, vuoi dal consiglio comunale, dal consiglio regionale o per i più fortunati ancora più in alto. Quindi vi aspetto. Io ho fatto parecchie relazioni nei vari anni in cui si è tenuto il corso e ho visto grande soddisfazione da parte di tutti i frequentatori. E se vi ho convinto a iscrivervi, guardate il sito scuoladiformazionepolitica.it dove troverete tutti i riferimenti per potervi partecipare e iscrivervi. Quindi ci vediamo alla scuola.